La pizza Rotei Carrette è la più celebre della tradizione napoletana. Nasce nel 1923, nei quartieri più popolari, alla pizzeria Trianon, dove i coniugi Ciro e Giorgina Leone, per andare incontro alle esigenze del popolo, quando la pizza si faceva con pochi ingredienti e doveva valerne la pena, inventarono questa specialità. Ecco che i pizzaioli iniziarono a stendere l'impasto sottile e dal diametro molto ampio, che fuoriusciva dal piatto, proprio come la ruota di un carro. In questa pizza gli ingredienti si distribuiscono meglio e in ogni boccone si può sentire tutto il gusto del pomodoro, della mozzarella filante e del basilico fresco. L'impasto è steso partendo dai bordi, in modo da non renderlo troppo sottile al centro e non accumulare troppa pasta nel cornicione, che una volta cotto sarà sottile e leggero, tant'è che qualcuno, turisti compresi, riesce a mangiarne ben due di seguito. Queste qualità rendono la pizza a ruota di carretto perfetta da mangiare ripiegata su se stessa, o come si dice a Napoli, a portafoglio. Oggi mangiare una pizza a ruota di carretto non sarà di certo un'esigenza, ma un'esperienza imperdibile per chi viene a Napoli. In partnership con Trianon da Ciro In partnership con Trianon da Ciro In partnership con Trianon da Ciro